Abbracciami, 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 lo dice tre volte, io quasi quasi vado e lo abbraccio. Io l'ho già fatto prima caro, non mi faccio perdere. Ma voi donne avete come dire una sorta di corsia preferenziale, perché insomma prima vengono da voi, poi si avanza tempo. Ciao, buongiorno. Ciao Cesare, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao. Benvenuto, bellissimo questo video, tra l'altro sei in un tiro pazzesco, vestito benissimo, bianco e nero, suggestioni straordinarie. Grazie, che gentile, è stato un bellissimo lavoro questo video, l'ho realizzato qualche settimana fa e è sempre difficile fare il video delle mie prime canzoni con cui esco, perché spesso hanno questa epicità, questa voglia di essere molto grandi, molto larghe, molto corpose e quindi poi di conseguenza il video deve seguire il passo delle canzoni. Però quando ti impegni, quando ti metti tu con le mani, con le tue mani proprio a decidere cosa fare, come realizzarlo, riesci a far stare vicino un video alla canzone che presenti. Cesare, sei tornato col botto, perché questo disco ti avranno informato, vero? Mi aprivi in classifica. È in te la classifica, sì, sì, me l'hanno detto. Sei davanti a Negramano, sei davanti a J-Ax Fede, sei a Cristina D'Avena, che è qua. Sei anche primo nella classifica dei vinili, perché adesso c'è questo rigurgito, questa moda che è tornata. Lo mostriamo, perché ci sta guardando. Sì, sì, io sono stato, come da tradizione, tutte le volte che esce un mio album, la mattina in cui esce io mi alzo, metto la sveglia presto, vado nel negozio di dischi e mi compro il mio disco, con notevole imbarazzo dei commessi che lavorano nei negozi. Però è molto bello andare a comprare il proprio album, anche perché questo disco è molto curato anche nella sua copertina, nel suo interno. È un oggetto che, è vero che la musica la puoi ascoltare ormai in tanti supporti, puoi ascoltarla su Spotify, puoi comprare il digitale su iTunes, puoi ascoltarla ormai anche in tanti altri metodi. Però avere il disco, secondo me, è sempre una cosa bella, soprattutto quando è ben curato, perché alla fine può diventare anche un oggetto di arredamento, volendo. Guarda questo vinile com'è bello. Chi è vintage come me è rimasto affezionato a queste cose, perché oltre che il contenuto, naturalmente la musica, c'è anche proprio l'oggetto in sé che è bello, è bello tenerlo tra le cose. Secondo me torneremo, stiamo tornando alla voglia comunque di avere delle cose che sono belle e che non possono essere sostituite da nulla. Senti, ti reinventi un po' sempre, album dopo album. In questo lavoro ci hanno scritto diversi ascoltatori che è un po' più difficile, un po' meno immediato rispetto a canzoni del passato, ma libero. Ti ci ritrovi in queste parole? Sì, mi ritrovo nel senso che non ho idea di cosa sia l'immediatezza, nel senso che le cose più belle lo sanno tutti, che sono quelle che in qualche modo vanno scoperte piano piano. Una cosa che immediatamente, al primo ascolto, subito, ti colpisce e spesso dura meno. Questa non è una regola, però ecco, sicuramente i miei dischi sono dischi che hanno una vita molto lunga, hanno sempre avuto una vita molto lunga, ma la cosa che mi colpisce di più è che sono vent'anni che mi dicono esattamente questa cosa. E quindi vuol dire che in qualche modo, vuol dire che se è nata sempre così bene, vuol dire che la strada era quella giusta. Anche perché il concetto di immediatezza effettivamente è vago, perché Poetica per esempio ci è arrivata addosso come uno schiaffone, per dire, no, quindi ci ha colpito subito come canzone. Grazie, grazie. La mia intenzione è quella di fare un lavoro di grande rispetto del pubblico e spesso il pubblico, sembra come in questo messaggio che hai letto, sembra rivolgersi agli artisti come se fossero in qualche modo dei piccoli jukebox personali che devono portare una musica che possa accontentarli immediatamente. Ma in realtà questo secondo me non è un modo di rispettarli al 100%. La cosa più importante per chi fa il mio lavoro è quella di dare al pubblico, nel grande rispetto che ho di chi ascolta la musica, perché vanno valorizzate le persone che ancora hanno grande rispetto per la musica, dare al pubblico qualcosa che possa durare nella loro vita per molto tempo. Cioè dargli qualcosa che loro una volta che l'acquistano, che si fanno lo sbattimento di comprare un album, di portarselo a casa o di regalarlo a qualcuno sotto Natale, alla fine fai un regalo che nella vita può durare di più e le cose immediate hanno una durata più breve e quindi io quando faccio cose che magari hanno bisogno di essere assaporate con un po' più di calma oppure quando faccio delle canzoni che nascondono dei dettagli, dei particolari che scopri piano piano, in realtà sto facendo un grande favore a chi ascolta musica. Mi piace questo principio. Senti, hai fatto un lungo lavoro su questo album, questo ha richiesto anche un po' di isolamento sociale, come è andato in questi due anni e mezzo? Amici, affetti, viaggi, sei riuscito a far tutto o hai dimezzato? È sempre stato così, purtroppo la mia vita è una vita di Robin e di Batman, c'è una parte che si chiama Robin che è quella del ragazzo di Bologna che si chiude in studio e in qualche modo tira fuori tutto quello che ha dentro e scrive canzoni, le arrangia, lavora moltissimo per un'ambizione di portare al pubblico un bel progetto ma anche perché deve arrivare a svuotarsi di quello che in qualche modo ha dentro, altrimenti impazzirei probabilmente per come sono fatto. Per un'esigenza di comunicazione secondo me proprio, non riesco a trattenere troppe cose dentro, o le dico o le canto, in un modo o nell'altro devo tirarle fuori. E ti chiudi un po'? Molto, perché è un lavoro di introspezione, dopodiché finalmente il pubblico recepisce quello che fai, il feedback come mi dicevi tu è molto molto buono, quindi questo mi rinietta molta vita dentro e rinizio a costruire e riesco e vado a fare Batman che è la parte che sale sul palco. Esattamente, intanto salutiamo Freddy che è sempre lì che ci guarda. Freddy è qua, è con noi, ci controlla, è nell'aria. In tutto questo hai avuto modo di buttare un occhio sui possibili scenari, i tuoi e del mondo in generale, allora vuol dire che intanto ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album e poi naturalmente diciamo qualcosina, no? Molto volentieri, sono qua apposta, sono venuto qua da voi proprio per parlare di questo nuovo album. E noi ti ringraziamo tanto per questo. Grazie mille, Cesare Cremonini su Radio Bruna. Possibili scenari, la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Cesare Cremonini, dieci canzoni, una durata media di quattro minuti e mezzo, forse cinque, anche questo è molto vintage. Beh sì, non è una scelta diciamo, non è una scelta, è puramente una questione di istintività, non ci ho pensato, non ho pensato a fare canzoni che fossero per forza una tipologia di canzoni, ecco. Mi sono basato puramente sul mio gusto e sulla mia personalità o su quello che è il mio background musicale o su quello che credo che sia bello per me ad ascoltare, faccio sempre così poi alla fine. Possibili scenari, tuoi, del mondo che ti circonda? Un disco è un insieme di possibili scenari musicali per prima cosa ed è un insieme di possibili scenari da un punto di vista anche se vuoi concettuale, ci sono tante idee in questo album, sono tutte racchiuse dentro a un unico posto che è un disco però in realtà è di per sé un insieme di possibili scenari, un album, non è come un film che è un lungo, non è un cortometraggio questo album, è un insieme di tanti piccoli teaser, di tanti piccoli film che insieme sono un bellissimo disco ma che presi separatamente possono rappresentare tanti piccoli spunti, tanti piccoli film uno dopo l'altro. Secondo me è bello far camminare il pubblico dentro a un disco perché può attraversare tutte le vie di questo album e scegliere ogni giorno quale attraversare, quale percorrere. Stavo immaginando come tutto questo poi sarà tradotto sul palco durante le versioni live. Eh, lì si compie la vera magia, cioè si chiude il cerchio, noi saremo in tour a giugno negli stadi, faremo Lignano, faremo San Siro, faremo l'Olimpico di Roma e faremo il magico Renato Dallara di Bologna. E devo dire che l'accoglienza di questa, di questa idea, di questa voglia, di questo progetto live degli stadi è stata un'accoglienza un po' inaspettata devo dirti perché in realtà non mi aspettavo così tanto. 85.000 biglietti hai già venduto, 85.000. Però ho un rapporto veramente molto speciale col pubblico che segue la mia musica, prima di tutto è un rapporto fatto di, non è una costrizione, cioè io sono sempre stato convinto e spero che sia sempre così, che se faccio delle cose buone insomma mi premieranno, se non faccio delle cose buone no. Non sono uno che ama, sai, le sette, prima parlavate di sette no? Le sette per i cantanti, cioè le sette per i fan club anche per lì, non ti piace. I fan club sono belli, li trovo belli quando sono spontanei ecco, non credo che l'artista debba in qualche modo essere il suo stesso fan club, il fan club è dei fan, però la cosa che mi importa è avere questo rapporto di grande onestà con chi mi segue, è una cosa che mi stimola molto a fare sempre meglio per prima cosa no? Altrimenti si diventa come quegli artisti che fanno sempre la stessa canzone per accontentare sempre gli stessi fan che hanno sempre gli stessi gusti. I mestieranti, sì. E dall'altro lato trovo che sia sempre anche questo un modo per premiare il pubblico perché alla fine io do molto rispetto, non pretendo niente, però do molto rispetto a chi mi ascolta e la stessa cosa mi piace ricevere. Questi 85.000 biglietti, a proposito ne approfitto per dire che al Dallara di Bologna i biglietti stanno quasi finendo, quindi... Muoversi, muoversi. Ne mancano veramente pochi, so che tanta gente magari pensa che a giugno manchi un po' di mesi, ma le cose quando vanno bene vengono molto in fretta. Magari Cesare ci ritorniamo tra un attimo sulla questione dei biglietti, sulla questione dei live, siamo costretti a dare spazio a un pochino di pubblicità, ci ritroviamo tra poco su Radio Bruno con Cesare Cremonini. A dopo. Buon viaggio, share of love. Cesare Cremonini è... Ho dei bellissimi ricordi di questa canzone, me la stavo ballando perché... Dai, condividine uno con noi. No, perché questa canzone offre un approccio pop, molto leggero, che secondo me ogni tanto, anche per chi come me si prende molto sul serio e vuole fare le cose fatte per bene, offre quel momento di relax, no? Di sbaglio. Di leggerenza che nella vita ci vuole sempre, anche quando fai il cantautore. E quindi sono contento di aver pubblicato questa canzone che si chiama Buon Viaggio. Poi sul palco, mi ritornano in mente sempre le sensazioni del palco, ogni volta che ascolto una mia canzone ormai l'associo agli concerti che ho fatto, no? E quindi mi ricordo che nel tour scorso, durante il più ecologico tour, era bellissimo vedere la gente ballare e divertirsi durante Buon Viaggio. È sempre stupendo, ecco. È bello anche in viaggio, con la macchina cabriolet. È la classica canzone da finestrino. Esatto, da finestrino, sulle macchine scappotate. O da decapotabile, se è possibile, però insomma, e poi via che vai. Magari, magari. Magari decapotabile sui colli di Bologna, ed è sui colli di Bologna che hai registrato questo disco eppure che vivi. Tu non ti stacchi da Bologna, che legame hai con questa città? Sono innamorato della mia città e ho un rapporto stupendo. La mattina quando mi sveglio, ci sono i ragazzi che vanno a lavorare, sui camion, queste persone straordinariamente vitali che attraversano la città tutte le mattine, portano cose, fanno. Tutti sono impegnati nelle loro faccende quotidiane. Io attraverso questa città e mi salutano con tanta gentilezza. Ciao Cesarone, ciao. Oh, allora, forza Bologna, eh Cesare, così. E c'è questa empatia fra me e Bologna, è uno scambio bellissimo. Io amo tantissimo la mia città, ma ho lavorato anche a Reggio Emilia, per dire, no? Siccome Radio Bruna è la numero uno in Emilia Romagna, voglio parlare a tutta l'Emilia Romagna. Ho lavorato anche a Reggio Emilia, che è una città che poi ho scoperto pian pianino, lavorandoci, perché ho un piccolo studio anche lì, che lavoro con un ragazzo che lavora anche lì, ed è una città bellissima anche a Reggio Emilia. Cioè l'Emilia Romagna è questa serie di piccole perle, di piccole e grandi perle, tenute insieme dalla Via Emilia, no? Come se fosse un rosario. E io adoro la mia regione. Attraversarla è come, non so, sembra fatta apposta per essere attraversata, ma tutto è grazie alla Via Emilia. E quindi è una continua scoperta. Dove andiamo stasera? Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Imola, Forlì, Cesena? No, esagero. Andiamo al mare, andiamo al mare. Ovviamente il massimo è quando dici, perché la cosa divertente dell'Emilia Romagna, di noi bolognesi anche, quando arriva una ragazza di Roma, non so, e ti chiede, cosa facciamo stasera? È tipo il 10 novembre. E tu dici, da buon bolognese, andiamo al mare. Ma vuoi dire solo che vuoi andare a mangiare il pesce riccione? Non vuol dire che devi andare a fare il bagno. E la gente mi guarda sempre malissimo. Ma andiamo al mare, ma è novembre. Facciamo a prendere del freddo al mare. Sì, ma poi non ti preoccupare, dopo ci pensiamo. Oddio. Senti, Bologna, tu sei partito da lì con il Luna Pop. Una curiosità, ma coi ragazzi vi siete rivisti? Vi mantenete un minimo in contatto? Ci scriviamo sempre una cartolina a tutte le estati, per tradizioni. A Gabri, a Lillo. Però vi siete visti nel tempo, no? Sì, ci incontriamo ogni tanto a fare la spesa. Io sono al reparto surgelati. Le cose pronte. Una cosa proprio da uomini, insomma. E loro invece hanno tempo. Comprano roba fresca. Famiglie diverse. Ecco, tu hai fatto un enorme successo da subito. Erei il giovanissimo biondino dei Luna Pop, quando ci siamo conosciuti, ricordo. E il pubblico in delirio. Poi dopo sei rimasta biondina solo tu. Ecco, esatto, sei rimasta biondina solo io. Ti chiamavano così. Le ragazzine urlavano vedendoti in un'età delicata. Dovevate vedere i radio Brunestate. Mi ricordo un anno a Forlì, tenerle sotto controllo fu davvero difficile. Qualcuno non esce bene dal troppo successo in tenera età. Tu come l'hai gestita? Direi benissimo, nel senso che gli esami vanno bene. Ho fatto gli esami del sangue due settimane fa. E cioè, a parte il colesterolo che ha due punticini in più, ma questo mi hanno detto essere legato a una cosa di età, no? Il colesterolo cresce insieme a noi. Ma poi sei Emiliano Romagnolo. A parte questo sto benissimo. Non ho nessun tipo di problema. Anzi, sono in grande forma. No, ma figurati, guardo avanti. E quindi per me, come dire, sto per fare un turno negli stadi. Il mio obiettivo, anche quando il successo del Uno Papa arrivò fortissimo, non era solo quello di godermela. Era quello di arrivare qui oggi negli stadi. Quindi ho sempre avuto più preoccupazione di perdere le cose che di conquistarle. Quindi mi sono sempre mosso come un secchione, diciamo. L'unica cosa in cui sono bravo nella vita e in cui sono secchione è proprio la musica. Quindi ho scelto sicuramente la cosa migliore per me. A scuola andavi così così o andavi bene? C'è uscito un articolo che parla del nuovo album, di possibili scenari, ed è un articolo che è uscito su qualche magazine specializzato di musica. C'era una frase che mi ha colpito perché finalmente qualcuno è riuscito a definirmi decentemente. Mio padre mi ha sempre dato del distratto. Eppure io nella mia vita professionale sono estremamente preciso, però magari non so dove ho messo le chiavi della macchina e non ricordo la data di nascita della mia fidanzata. Però a parte questo, c'era scritto Cesare è un distratto fuori perché è molto concentrato su quello che prova dentro. Ed è un po' vero. Cioè la mia caratteristica peculiare è quella di stare sempre lì ad analizzare quello che sto provando. Ma forse per un'abitudine alla scrittura, no? Tu devi essere in contatto con quello che provi. E questo ti chiude un po' dentro di te. E allora fuori sembro sulle nuvole, però non lo sono per niente, diciamo. Sai che questa potrei prenderla in prestito perché in parte mi ci ricordo. E' una grande paraculata anche quando ti danno del distratto. No, 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 no. E poi ti dai anche un tono. Perché io sono concentrato dentro. La mia anima. Ti distratto fuori ma sono concentrato dentro. Non mi ricordo la tua data di nascita ma è la mia anima che parla. Esatto. Senti Cesare, stiamo per ascoltare un'altra canzone dal tuo ultimo album. Nessuno vuole essere Robin. Tutti vogliono fare Batman. Tutti vogliono fare i supereroi. Tutti vogliono essere i migliori di tutti. Tutti con il numero 10 sulla schiena. Nessuno che sia contento di stare un passo più indietro. Ma sai cos'è? Di godersi di più le cose. Diciamo così. E' che a me naturalmente stanno simpatiche le persone nei momenti di imbarazzo, di difficoltà. Non è che non riesco a creare un grande collegamento umano. Non mi sento vicino a chi vince facilmente, a chi si atteggia in maniera presuntuosa. E chi scrive le canzoni lo sa molto bene perché le canzoni non nascono quasi mai dalla sicurezza in te stesso. Quando sei sicuro di te. La felicità, la gioia è difficile. La gioia è una cosa che hai dentro e non ce l'hai. Al di là di questo è proprio la questione di raccontarsi come. Ecco se noi ci raccontiamo anche attraverso le debolezze forse facciamo un favore proprio a noi ma anche a chi ci sta vicino. Perché in fondo la perfezione non esiste. Quindi è questa ricerca dell'essere fighi che oggi è molto molto di tendenza sui social in particolare modo dove siamo tutti degli account, dei profili. Ecco il mio profilo è un profilo, come si dice proprio, ho un profilo più low profilo. Low profilo. Il mio ha un low profilo. Ci mettiamo tutti il numero 10 e poi finisce che sbagliamo i rigori, anche quelli che fanno i fighini. È così, è così. Allora, l'abbiamo presentata abbastanza, direi che è il caso da ascoltarcelo. Nessuno vuole essere Robin da Possibili Scenari, ultimo album di Cesare Cremonini. Bella domanda. Bella domanda. Bella domanda. A volte uno fa delle cose ma si rende perfettamente conto del perché le fa, però c'è qualcosa che ti porta a fare quella roba lì. Perché per te è importante fare. È una canzone questa che ho scritto in pochi minuti ed è una di quelle canzoni che secondo me, per esperienza lo dico, ti vengono ogni tanto, non tutte le volte che ti va di scrivere una canzone. È una canzone che è nata velocemente perché era tanto che avevo bisogno di dire queste cose e spero di aver dato voce a un po' di gente che magari aveva bisogno di dire le stesse parole. Che uno pensa, le cose fatte in fretta di solito sono fatte un po' male, non in questo caso. L'ispirazione che arriva. Secondo me le canzoni rappresentano esattamente quella cosa che più veloce esce e più è buona. Mi piace. L'istinto in quei momenti conta moltissimo. Chiariamo il tuo rapporto con i cani a scanso di equivoci. Ottimo, ottimo. Nel senso che io credo che i cani oggi abbiano un ruolo sempre più centrale nella vita delle famiglie, delle persone, ma non solo come animali domestici. Hanno un rapporto emotivo con le persone, c'è una grande affezione che a volte, lo dico con molta leggerezza e molta simpatia, a volte si esagera anche. Però credo che rappresentino uno specchio anche di cosa proviamo. E in questa canzone in parte viene raccontato anche questo. È più facile essere empatici col cane a volte. A volte può diventare un rifugio diciamo. Anche perché non risponde mai male. Poi è amore incondizionato, come si dice, no? E quindi credo che rappresentino un po' simbolicamente anche quello che stiamo provando oggi. Un po' di solitudine nel rapporto che noi concediamo a questi meravigliosi animali. Io credo che venga raccontata anche. Cesare, ci avviciniamo a Natale e Capodanno. Stiamo anche chiudendo questa nostra chiacchierata. Natale con i tuoi o alle alternative? Natale con i miei, ho un babbo e una mamma, come tutte le persone. Il babbo sarà molto anziano adesso. 94. Ah, però. Sì, e a maggior ragione parò il Natale con i miei genitori. Bello, a Bologna. A Bologna, pregustandomi diciamo un fine inverno, una primavera che mi porterà a realizzare tanti i miei sogni, quindi sarà un bellissimo Natale. Il mio regalo di Natale l'ho già ricevuto sicuramente pubblicando questo nuovo album, ma anche e soprattutto con l'idea di ricevere così tanto affetto da parte del pubblico quando sarò arenato dall'area di Bologna, per esempio, a suonare. Quello è il mio regalo di Natale, ce l'ho già. Non anticipo. Quindi per ora credo che dovrò dare più in cambio, dovrò dare qualcosa agli altri. Grazie Cesare. Noi ti ringraziamo, siamo arrivati alla fine, è stato un piacere, in bocca al lupo per tutto quello che verrà e saranno tante cose. E con la speranza di poterci rincontrare. Vi aspetto negli stadi allora. Un abbraccio grande. Ciao, a presto. Ciao, ciao.